Come sta il Pescara alla vigilia dell'anticipo di lusso di domani sera contro il Palermo? Zeman va ancora controcorrente e si dice non preoccupato di quello che sta vedendo. Anzi, nelle ultime due partite, due sconfitte, ci sono stati dei miglioramenti. No, io non sono affatto preoccupato. Io penso che dobbiamo migliorare, ho detto che dobbiamo migliorare nella velocità di azione, di giocare più verticale. Poi la squadra per me ha giocato, ha giocato molto, ha fatto sette occasioni da gol e non ne ha fatti. Poi purtroppo in fase difensiva c'è sempre qualcuno che sbaglia e poi si paga. Le ultime due partite, che poi corrispondono a due sconfitte, sono stati giocati molto meglio rispetto a quelle che abbiamo vinto. Il clima nel corso della seduta di rifinitura all'apparenza era sereno, c'è comunque la giusta concentrazione. All'Adriatico Cornacchia arriverà il Palermo. Zeman parla così di Zamparini e di quella che definisce casa sua, appunto, Palermo. Lui ha fatto tante cose buone perché tanti giocatori che ha portato lui giocano a livello mondiale oggi. Non è che ha sbagliato sempre. Per me, a parte Palermo, Palermo è casa mia. Lì, ho lavorato nove anni nella società Palermo. C'ho la moglie di Palermo, c'ho due figli che sono nati a Palermo. E l'antistadio è intitolato a mio zio, quindi sono a casa lì. Sul fronte formazione Zeman, come sempre, non si sbilancia. Però, da quello che abbiamo percepito, ci sono possibilità che Elisalde possa debuttare dal primo minuto al centro della difesa, al fianco di uno tra Coda e Bovo. In attacco tornerà Capone al posto di Benali e poi ballottaggio tra Gans e Pettinari. Sono in aumento le percentuali di Gans. Per lui sarebbe la prima volta dal primo minuto. Zeman dice, io la formazione base ce l'ho in mente e spiega perché non ancora si è visto questo 11 di riferimento. Io penso che quando si fa una squadra, quando arrivano i giocatori, poi se arrivano 42, è difficile. Però, uno si fa immagine su che cosa vorrebbe fare e chi potrebbe servire in un ruolo, chi in un altro. Io ce l'ho 11 che vorrei fare giocare e dipende poi. E da loro come si apprendono il gioco che chiedo a loro e dallo stato fisico.